Sconfitta per il futsal Pistoia nella prima giornata di ritorno della campionato di Serie A2. Gli arancioni contro il Cus Molise avrebbero meritato qualcosa di più, ma la truppa di Mr. Lami, nonostante la buona prestazione, è stata battuta 4-3. La Gesinti resta ferma a 7 punti, pensando alla prossima sfida in casa della Capurzo. Per la cronaca in vantaggio Pistoia con Checo, un 1-0 che dura poco perché Barichello pareggia i conti. Pochi minuti dopo il Molise passa in avanti con Turek. Poi arriva l'autogol di Barichello, 2-2. Un botta è risposta nel secondo tempo, fino alla rete del 3-2 per i padroni di casa con Bebetinio. Ma ecco che il Molise trova il pareggio con Triglia, 3-3. Nemmeno un minuto e Turek firma la doppietta, 4-3 per gli ospiti. Ci prova fino alla fine Pistoia, ma poi deve arrendersi. Noi abbiamo bisogno di fare risultati, ormai le prestazioni mi sembra che abbiamo dato dimostrazione di farle, che è una squadra che lavora e questi ragazzi meriterebbero per l'impegno, per il lavoro, per la dedizione e secondo me anche per la qualità del gioco che riescano ad esprimere, a volte un pizzico di fortuna in più. Già era una di quelle partite che noi sapevamo essere difficilisti, perché questa è una squadra che fa 7.000 uno contro uno e li fa bene e quindi fa anche molto bene a giocarsi la carta così. Ma noi sapevamo che non potevamo scendere a quel tipo di compromesso, perché non è il nostro modo di giocare. A noi ci piace tenere la palla e andarcela a prendere. In questa partita andarcela a prendere è una cosa pericolosa e quando l'abbiamo fatto l'abbiamo pagato molto caro. Ho avuto anche la fortuna di avere i complimenti del Presidente alla squadra, ovviamente, per l'impegno che hanno messo e per la prestazione che hanno fatto. L'ho ringraziato perché i ragazzi non hanno bisogno, perché a volte devi anche capire se sei sulla strada corretta. Grazie.